Benvenuta signora, benvenuta nel saloon, allora lei è la signora Mimì, allora il suo appuntamento era 5 minuti fa, mi delude molto, assolutamente, poteva venire qualcun altro nel frattempo, io l'avrei preso l'appuntamento, d'accordo, deve essere un po' più precisa la prossima volta, ok? Allora, come al solito vorrei sapere l'outfit per la serata, ok, quindi un vestito glitterato verde, molto molto bene, è questo qui giusto? Ok, allora iniziamo applicando del miele lentivo sulla fronte e sugli zigomi per renderli più levigati E' molto molto rinfrescante Sorrita, please, sorrita, sorrita, please Ecco fatto, adesso le metto un po' di fondotinta Questa è la nocciola Relax, 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 relax E' molto molto denso E va benissimo per il suo incarnato Adesso utilizzeremo un pennello per andare a stendere il tutto, ok? Voglio evitare l'effetto mascherone Poi lei è così giovane Dunque perderebbe la naturalezza del suo meraviglioso viso Per gli occhi Per gli occhi mettere un po' di questo verde glitterato Che ne dice? Che si va a abbinare perfettamente con il vestito Chiude gli occhi, please Chiude gli occhi, please Molto molto bene Mi applico pure un po' di correttore Questo anti-hage Ecco qui Per gli occhi, quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, adesso le metto il blush, d'accordo? Adesso le metto questo blush molto molto pigmentato. So, 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 so... So, 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 so... So, 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 so... Ok, come rossetto direi di utilizzare un rossetto blu, che ne dice un po' più particolare, per non essere scontati, chiaramente. E' veloce nella decisione. Ok, si mette nelle mie mani. Direi questo qui blocco che a me piace tantissimo. Molto, molto bene. Dello stesso colore, tra l'altro, ho anche di glitter che le applicherei sulle gote, che ne dice, si fida completamente, è davvero una donna intelligente. Vedete come sono meravigliosi. Li adoro, assolutamente. Staranno benissimo. Su, ha anche un borsello di questo colore all'incerca, quindi andiamo davvero molto molto bene. SORRITA, PLEASE, SORRITA, PLEASE. SORRITA, PLEASE, SORRITA, PLEASE, SORRITA, PLEASE. SORRITA, PLEASE. Per dare maggiormente brillantezza alle labbra. Ok. Le metto poi questa matita per andare a intensificare lo sguardo che ne dice è verde come l'abito e come l'ombretto. si rilassi signor ok abbiamo fatto davvero un trucco meraviglioso le raccomando la prossima volta la puntualità d'accordo se ti è piaciuto il video ti raccomando metti like e commenta se non sei ancora iscritto al canale iscriviti ti aspetto nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti